perché presi dal lavoro mille cose, mille impegni, però adesso il lunedì ogni tanto insomma è tutto il lunedì e iniziamo a fare le nostre carissime unboxing dove vi facciamo vedere tutti i lavori che ci arrivano online, perché visto che facciamo tutto il servizio online ci mandate i vostri pacchi e noi vi facciamo vedere tutto quello che arriva siamo su TikTok, Instagram, Facebook là dietro, YouTube e quant'altro fateci sapere se ci volete pure solo i fans e iniziamo allora iniziamo, questo è uno manda con il corriere, questo arriva da Milano, perché a Milano noi facciamo un servizio che ragazzi è una roba in giornata cioè se voi avete un tacco la mattina, noi vi mandiamo il corriere, il pomeriggio il tacco vi viene riconsegnato, bello, fatto, preciso ah, e dicono anche su Rai 3, oltre a OnlyFans e quant'altro, anche su Rai 3 beh, oh, se la Rai ci, anche a gratis, noi facciamo mezzo di trasmissione comunque, da Milano il nostro amico Carlo ci ha mandato questa toz da fare, che dobbiamo fare qua? lavaggio lavaggio, un bel lavaggio, pelle scamosciata, adesso ragazzi sui lavaggi stiamo menando pesante abbiamo, come avete visto nelle storie, abbiamo i reel soprattutto, abbiamo comprato la macchina nuova per fare laggi per essere ancora più performanti insomma, tanta roba, qui, questa toz blu, la andiamo a lavare, igienizzare, andiamo a pulire il fondo, ridiamo un po' il colore, insomma, tornerà qui, Michele Cappucci chiede, mi saluti la mia città di San Severo ciao San Severo, San Severo, San Severo, vabbè existence vado in 5 ore, Foggia, che è così San Severo è fuggio, 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 fuggio Foggia, fuggio, fuggio, fuggia la fuggio che simpatico pallocchietto chiede, ma TG3 Abruzzo o? sì pallocchietto Raga, ci sta già detto certi nomi che io non lo so, guarda qui, che cazzo dice la coccia. Vabbè. Che ne fa di quei piome palloncchietti. Ah, può essere, può essere, infatti. Perchè nessuno. No, non è essere insultato. Povero palloncchietti. Dai, ci mancherebbe. Ci manchesse. Vabbè, sì, infatti scherziamo, vediamo che se non aggioravite faticoso. Poi, andiamo avanti. Stefano da Giuliano in campagna. Na, na, na. Napoli avendo lo sudetto, almeno. Ovviamente ce l'ha fatta. Io mi ricordo quando il Napoli stava in Serie C, giocavo con il Pescara. Allora, Stasmith da lavare. Chi dobbiamo fare Stasmith? Fondo. Fondo. Stasmith cambio fondo. Andiamo a mettere un fondo Strader in una Vibram. Uscirà un bel lavoro. Ah, tipo questo. Ecco, vedete? Questo qui. È leggermente più altino, ma comunque esce un ottimo lavoro. Scusate, ma qua da TikTok si vede malissimo. Devo avvicinare un po'. Se no, ecco. Si... Andiamo a mettere il fondo Strader in una Vibram. Poi, naturalmente, gli diamo una lavata, un'igienizzata, andiamo a ridare il colore. Torna veramente, veramente una bella scarpa. Quindi, se anche voi avete la vostra Stasmith, ce lo fate sapere. E noi, vedete. Ripariamo. Ah, boh, questo, mettermo la cucina, perché è un po' luccioso. Tengo dentro. E qua, poi, Dario da Bologna. Boh. Vediamo un attimo. Eh, qua, mi dicono, era ora che facevi una live. Eh, ho capito. Le live le facevamo, poi ci siamo un attimo persi. Però adesso ci stiamo rimettendo... Ci siamo. Cioè, eh, stiamo a fare. Daniele da Instagram chiede Ciao, riusciresti a sistemare una shopper di Chanel che si è pagata, piegata sul laterale? Quando si piega bisogna vedere che cos'è. Sicuramente roba che... Non so, devo vedere in materiale. Perché, tipo, ad esempio, il canvas di Whitton, quando si piega... Cioè, io non lo so. Ah, tutto ciò per... Cioè, quando io dico non si può fare... Noi che non si... Cioè, io non lo so fare. Se c'è quello che lo sa fare, ben venga. Io però, se dico che non si può fare, perché io non lo so fare. Quindi, se è piegata, bisogna vedere. Perché quando si piega, vuol dire che talmente tanto secca la borsa, è stata ferma tantissimo tempo. E là, la vedo veramente, veramente durissima a sistemarla. È molto, molto difficile. Cioè, se è pelle, può darsi che stirando, facendo qualcosina, riusciamo... Ah, è in pelle. Oddio, vediamo. Puoi andare sul profilo qua di Instagram. C'è un link dove clicchi e ci mandi delle foto. Si collega a WhatsApp, ci mandi delle foto. Così ti so dire se si riesce, se non si riesce. Vediamo un attimo. Poi, da TikTok, ho delle cerci che nessuno mi vuole risuolare. Eh, noi ci stiamo a fare. Mandaci anche su TikTok, stessa cosa per Instagram. Abbiamo il link all'inizio della pagina, sul profilo. C'è il link, clicchi, e ci mandi le foto. E noi ti diciamo se si può fare o non si può fare. Noi adesso, oramai, sulle cerci siamo pratici. Cioè, il nostro pane quotidiano. Qui parliamo tutti i tipi di cerci. Oltre ai fondi, adesso ci stanno capitando anche le sneakers delle cerci con i fondi a cassetta, che sarebbero questi. Però sono pesanti come dei mattoni, e quindi la gente ci fa togliere quello. E le abbiamo spedite, vero? Vero? Se no ve lo facciamo come te. Stamattina abbiamo spedite. Allora, qui abbiamo da Bologna una... Tu che roba è? Una Devi Naaman. Boh, mi scappa. Vabbè, ma è riparata. Cambiamo il fondo? Sì, cambiamo il fondo. Ora questo è sempre fondo a cassetta. Oramai, ragazzi, siamo diventati famosi sui fondi a cassetta, ne ripariamo senza paura. Che cos'è il fondo a cassetta? Ecco, ma, visto che ci siamo. Questo qui è un fondo a cassetta. Questo qua è un fondo a cassetta, perché la tomaia va dentro e viene cucita. Qui noi andiamo a scucire e andiamo a rimettere un fondo simile, similare, non è uguale, non è identico, perché molti non hanno identico. No, similare. Ce ne sono solo due tipi, così, che si vendono. Sono una della Vibram e una della Sling. Quella Sling è un po' più basso, che va bene per le sneakers della Gucci, insomma, non tutte. Cioè, bisogna un attimo adattarsi, però esce un bel lavoro e durano tanto, quindi, cioè, conviene farlo. Questo, così, un attimo, ci sono un po' più domande. Allora, un attimo, eh? Quanto si possono allargare delle scarpe strette? Allargare si può allargare, allungare no. Ho dei colleghi che dicono, no, io le allungo, io le voglio vedere, perché poi le scarpe le sfondi. Tutte le scarpe hanno un rinforzo davanti e un rinforzo dietro. Se vai a spingere così, in lunghezza, sfondi i rinforzi e poi non c'è più niente da fare, perché mi è capitato la prima volta di clienti che ho portato ad allungare la scarpa, mi ha rovinato la parte di dietro. È normale. Poi dopo non la porti, esce da fastidio e niente. Mentre invece sul larghezza si riesce a fare. Pure lì, punta punta, c'è il rinforzo, quindi no. Però già subito dopo, molte volte il problema è sul mignolino, sulla luce valgo, si tira, specialmente se è pelle, si fa. Ah, se invece la scarpa ha il fondo a cassetta, come questo, lì non gli facciamo niente, perché anche andiamo ad allargare, ma la gomma è un materiale comunque che torna in posizione, quindi noi possiamo tenerla allargata una vita, ma poi ritorna sempre come era all'inizio. Quindi, con le cassette. Allora, comunque per dire che quando comprate le scarpe, comprate le comode, quando comprate le scarpe, ah sì, poi dopo si allarga. Non tutto. Cioè, se a noi capitano delle persone che vengono e diciamo, un po' strettina, le nostre, tipo ad esempio, si allargano. Però se è stretta, se dà fastidio, consiglio sempre di non prenderle, specialmente i saldi, queste cose qua, perché poi se non le potete cambiare, sono problemi. Poi, un attimo, ma io vi posso mandare una corsa di Gucci, certamente, ci la puoi mandare, sul profilo c'è il link, clicchi, e vai, ci mandi le foto e poi organizziamo il tutto. Mentre stringere un mocassino che si è allentato nella parte posteriore, potremmo mettere un rinforzino in gomma più, ma non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, è un lavoro molto complicato. Poi mi chiedono se riusciamo a lavorare sulle Crocket & Jones, sicuramente, le ripariamo, nessun problema. Le Dottor Martins si allargano, si allargano, se le porti, perché sono tosse, sono dure, danno fastidio all'inizio, poi dopo diventano molto molto comode, però purtroppo all'inizio devi soffrire. Giovanni scrive, le XCAT e clicco sono veramente buone, è vero. Infatti, noi con i ragazzi collaboriamo e ci troviamo veramente bene. Tutte quelle che abbiamo venduto, nessun problema, riusciamo anche a fare qualche piccola modifica. Poi, da Damida o Damida dice FIPAURE, comunque FIPAURE, sai che vuol dire? Fai paura. Eh, fai paura, che è. Non so se è positivo o negativo. Non è positivo, è positivo. Poi, veniamo a noi, continuiamo. Altro pacco, altro pacco, da dove arriva? Da Ovada, A L. Che è A L? Alessandria. Alessandria. Blu. Ah, sì, Alessandria. Diteci lo voi. Diteci lo voi. Diteci l'acqua a te. Ah, sempre, se volete mandare roba, mangereccia o bevereccia, noi accettiamo. Chiaramente, la, la riparazione avrà una priorità sul re. Sì, sì, la, la, è la prima cosa che facciamo dopo. Quanto costa, tutte le sole, Timberland e lavaggio? 95. Ah, poi, 95. Lavaggio e cambio suola Timberland, 95 euro. Trovi sul sito. Sì, a proposito, noi siamo i primi, questo lo possiamo dire, che, che non si dica il contrario. E, in poche parole, abbiamo fatto, sul sito, l'e-commerce, per la calzoleria, cioè voi andate, nel col tempo stiamo aggiungendo tutti i vari tipi di lavorazioni che facciamo, voi andate sul sito, e potete, richiedere, vedete la lavorazione di sale, non so, cambio le whitton, cambio fondi, lavaggi e quant'altro, scegliete la lavorazione, poi, vi scegliete il giorno, nel quale deve passare il corriere, passa il corriere, prende il pacco, lo porta qua, noi facciamo il lavoro, e ve le rimangiamo. Insomma, facciamo stare, un livello, troppo alto, mi verrebbe da dire. ecco qua, la nostra Neverfull, qua gli dobbiamo fare, sicuramente i raccetti, vedete qui, che non ci sono più, cambio profilino, che è completamente massacrato, e anche i manici, dobbiamo fare tutto, dobbiamo fare tutto, cambio di tutto, ma forse, dopo di che, vediamo un altro, ci sono un bel po' di messi, ciao maestro, noto che il fondo delle sneakers, in particolare il Smith, diventa giallo nel tempo, posso usare qualche prodotto, per farlo tornare bianco, no, quando diventa giallo, diventa giallo, c'è niente da fare, perché c'è Zazu, che sta lavorando, e purtroppo non si può fare niente, mi dispiace, ad esempio noi o le cambiamo, oppure usiamo un prodotto, per farle sbiancare, ma ci vuole la lampada UV, è una cosa, un lavoro, cioè non è una roba semplice, quindi, non è, e questo succede, su tutti i fondi, specialmente fondi a cassetta, così da bianco, che vedono già, poi, Ferentino, Firenze, Ferra, Firenze, no, Firenze è FI, è Ferra che è, Ferra, eh? Ferra, Ferra non è Ferra, allora, poi dalla scatola, sembra una scatola, Rosinone, Rosinone, un paio, un paio, tra i qua, che ci vuole che tipo poi ragazzi scatola tos anche scritto cosa devi fare grazie eventuali contatti che bisogna fare qua il fondo cambio fondo pur su questa tozza la tozza cambiamo fondo senza paura poi vediamo se c'è qualche altro messaggio vedo che mi sta vedendo mi sta guardando un mio amico Tommaso, Tommaso a Verona purtroppo non ci posso andare per star giocando il Verona però da solo dove vado mi affiacci le botte se li fa a Verona non mangi non tomenano allora altro pacco vediamo di chi è Alessandro da Palermo allora come questa è una bella domanda allora su Instagram chiedo un consiglio come tolgo l'appiccicoso delle suole in para delle clacche niente non le togli la para ha questo difetto che col tempo portandole oppure non portandole quando inizia a fare il caldo perché comunque la para è un materiale che si attiva con il calore cioè si attacca col calore quando tu sei invecchiato e passato un po' di tempo non cioè si usura incomincia ad appiccicare finito l'unica cosa è cambiare il fondo però sulle clacche secondo me non conviene perché cambiare il fondo su quel tipo di materiale cioè cambiare il fondo in para viene 120 euro 140 sto a dire 140 la clacche nuova costa 140 euro e poi vi dico ancora di più io non lo cambierei perché pure la scappa non è la clacche purtroppo è scesa molto di qualità nell'ultimo periodo quindi secondo me non conviene quindi ricomprate se volete ricavare se no io la para non la comprerei se no andate sul sito maestricircone.com e comprate una bella scarpa e passa paura poi golden goose cambiamo il fondo qui c'è stata riparata questa è già stata riparata vedi questo lavoro questo che cosa è stato fatto invece di cambiare tutto il fondo che potrebbe essere anche una soluzione diciamolo noi non lo facciamo più perché non mi piace però al posto di cambiare il fascione cambiare tutto si va a fresare e a incollare questo tipo di gomma della Svig fa un effetto che è una via di mezzo che ci potrebbe stare può essere una soluzione potrebbe essere però a questo punto si vede che altrimenti questa cosa non piace e cambiamo tutto quanto sì sì comunque si consuma allora poi 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 lo scamosciato come si pulisce lo scamosciato allora shampoo ciccone per tutti i tipi di materiali anche per i capelli vedete quindi no per i capelli meglio no se no ho fatto l'apidemia allora scamosciato è una bomba questa è veramente una bomba per le pelle per i tessuti va bene un po' per tutto si spruzza fa un po' di schiuma si strofina e poi si spruisce con un pannetto veramente veramente un bellissimo esce un bel lavoro ve lo assicuro ve lo assicuro se no lo scamosciato ragazzi meno lo toccate meglio è oppure lo portate da un professionista e ve la fate lavare tipo noi le scarpe scamosciate ne avevamo veramente veramente tante però andate da chi lo sa fare non usate chanticleer robe varie perché poi ho prodotti vari massiglia sapone e quant'altro lui è Stefano fatti vedere aspetta quello devo aprire quello non l'ho aperto non usate prodotti perché poi dopo altrimenti si lo scamosciato assorbe e non gli fare più niente quindi state molto attenti allora buongiorno mia moglie possiede una borsa intamosci rosa come può pulirla è diventata nera lì non gli fai nulla perlomeno secondo me non fai nulla perché perché lo scamosciato quando diventa scuro purtroppo lì oltre ad essere a esserci dello sporco sicuramente c'è un po' di sporco c'è un po' ma lì anche cosa succede soprattutto negli angoli il colore va via io non ho delle soluzioni perlomeno quando ultimi mi porto la borsa in camoscio che non è nera c'è un colore scuro dico sempre la laviamo la igieniziamo esce profumata ma sul colore non possiamo fare nulla cioè io non ho delle soluzioni a meno che tingerne ma io sulle tinture in camoscio sono molto restio che parolone io che sono l'uomo del del cosa allora poi andiamo avanti esatto allora sì no che ciao maestro ti ho scritto in privato ok maestro cosa ne pensa di Scalpe Velasca questi non ho parlato e riparlato oramai ho triturato i marones su questa cosa sono scarpe inizialmente incredibili voi ditemi chi me lo chiede dite che cosa ne pensa però sono scarpe che all'inizio erano incredibili troppo buone per il prezzo poi hanno avuto un leggero calo adesso stanno risalendo quindi la scarpa la porto con le da prezzo sicuramente ci sta molto meglio di altra altra monnezza che gira tipo ah tipo eh ma su questo faremo un video dove ci sono su ah ma no questa è la cosa scusa eh ho fatto vogliamo fare un video proprio su queste cose su Instagram cioè vabbè a noi però in generale a chi cerca scarpe compare no scarpa artigianale 45 euro scarpa fatta a mano in Italia in Italia 45 euro per piacere per essere presi in carriera sì infatti la gente dovrebbe essere denunciata ma ci non sta perché o noi siamo dei dei bip perché cioè siamo stupidi che facciamo le scarpe che ci costano una cucinata e cerchiamo di avere un prezzo rapporto con il prezzo molto molto buono perché una scarpa fatta a mano con materiali con materiali di qualità a 45 euro in Italia non ci copre neanche la pelle scatola della chicco qui abbiamo lampada della chicco aspetta quella è veramente sì ma che cazzo dici ma di chi è è per me errore errore no no dillo questo no dillo la lampada della chicco è un regalo per me ah è un regalo è un regalo lo vedevi di io è un regalo quindi poi dopo adesso ma avete questi lavori qua ah Vincenzo ci chiede aspettavo il video nelle aziende che avete visitato nelle Marche qualche settimana fa è quasi pronto è quasi pronto ragazzi è una tipo mango Spielberg cioè avatar 3 cioè qui robe musiche scritte sottotitoli insomma stiamo a fare una roba che no Tiziano ti saluto da Siraculla ciao Tiziano no stiamo facendo un video molto interessante sulla produzione delle nostre scarpe siamo andati abbiamo fatto un bel tanti video dove spiego tutte le varie lavorazioni come viene fatta la scarpa dall'inizio alla fine un po' di storia sulle scarpe insomma un video secondo me molto molto interessante a chi interessa la scarpa è utile più che altro perché speriamo tutti tutti i passaggi della lavorazione ed è anche un video per vedere come si fanno le scarpe in Italia di qualità le scarpe di qualità e soprattutto i macchinari che vengono usati perché tanti dicono scarpe fatte a mano le mani vengono usate ma vengono usate anche dei macchinari cioè perché perché fare delle scarpe a sotto i 1500 1000 euro a mano è veramente o c'è il piccolino che sta l'artigiano solo che fa le scarpe a 4-500 euro nel paesello ma una scarpa in un negozio dove si paga tutto tasse e robe varie va sicuro che fatta a mano a come dicevo prima a 45 euro ma comunque sotto i 1000 1500 è veramente veramente difficile quindi noi facciamo un video dove spieghiamo tutto e secondo me molto interessante molto interessante poi non ho capito analisa neanche un paio di jabatti non si acquista non ho capito che vuoi dire Luca Vela che è un collega ah ciao Luca ciao a tutti i colleghi perché so che tanti colleghi ci guardano e questa cosa mi fa piacere perché vuol dire sarò simpatico oppure la gente mi guarda e poi mi insulta uno si piglia tutto ah cosa ne penso del John Lobb molto molto belle le ripariamo un livello altissimo però costano un bel po' però sono veramente delle scarpe di altissimo livello secondo me ecco John Lobb Alden Allen Edmond ce ne sono sono 4-5 che stanno lì non Church è un livello secondo me più basso però sicuramente sono scarpe molto molto buono molto belle quando le ripari ti dà soddisfazione insomma secondo te si potrebbero riprodurre le Nike Mag di ritorno al futuro ah Nicolò ma pure tu dici me la Nike la fatti la Nike la fatti la fatti la fatti la fatti la fatti metto un compressore che fa gollare posso 2.000 euro posso 2.000 euro e allora l'ho fatta la Nike apposto no scarpe cioè io no poi se c'è qualche mazzo Serenella da Facebook chiede come siete finiti dall'Abruzzo a Porta Romana allora col treno fino a Milano Pescara Milano poi metro gialla e arrivi diretto 5 ore se prendi freccia rossa 5 ore no parti scherzi io avevo il negozio a Pescara poi dopo sono venuto su a Milano per un altro lavoro poi ho conosciuto un po' di gente vabbè aveva tutta la storia sul sito c'è la storia Serenella si chiama non si chiama Serenella vai sul sito c'è scritto storia oppure se vuoi un giorno farò un passa di qua se no passa qui e ti spiego tutto quanto costerebbe la cromatura non cittura è andato via il dorato ecco a proposito di questo questa splendida Chanel Coco Chanel dove la cliente ce l'ha portata per fare la doratura di tutte le parti dorate questo questo il logo questo no perché se lo smontiamo poi non lo rimontiamo più per rifare la doratura sulla fibbia il costo è quanto? 95 euro la doratura ci sono le fibbia argento canne di fucile insomma nere rifacciamo la galvanica da zero poi c'è chi ha non si dice galvanica perché allora siccome qua non facciamo i chimici e io per spiegare una cosa in maniera semplice ai clienti perché non è che devo stare a raccontare la composizione chimica dei materiali che vengono usati per rifare la doratura il tipo galvanica e si dice così e quindi facciamo ridiamo il colore uguale vanno via i graffi in poche parole la fibbia o quello che è o come dicono qua quel che l'è torna nuova tipo vedete qua vabbè non si vede tantissimo però le parti sono usurate si vede che manca il colore poi se le andiamo a rifare tutte tornerà nuova perché qui veramente torna nuova Silvia da Youtube chiede se è possibile riparare delle new balance allora le new balance si possono riparare aspettate un attimo un attimo un attimo vai 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 parla ah aspettiamo ok si può qual è la domanda il new balance oddio non lo so devo vedere se possiamo dobbiamo cambiare la pianella la parte di sotto perché i fondi non ci sono no la pianella si dice non lo so comunque la parte di sotto da vedere se vai su link e mandi le foto e ti diciamo se si può fare oppure no poi mi piacerebbe di invitare calzolaio avere la mia bottega il coraggio per imparare il mastiere l'unica strada è fare prima il ragazzo di bottega o ci sono dei corsi allora su questo ci stiamo lavorando c'è quello lì stiamo capendo se quello che c'è in Italia penso se è quello in Veneto perché ci sta un corso per calzolaio in Veneto no quella è la scuola ma quello non è che ti insegna per calzolaio no no quello ti insegna le scarpe no non è vero non ascoltate la voce fuori campo calzolaio ti consiglio di andare in bottega vai lì inizi provi fai piano piano e poi se impari la cioè ti puoi aprire la tua bottega non è facile perché comunque sembra il lavoro che calzolaio era un lavoro così però oramai dopo con tutte le lavorazioni che ci sono bisogna sempre specializzarsi comunque sabato prossimo c'è il calzita è una fiera per i calzolai organizzati da calzolai italiani tutti i calzolai che stanno vedendo potete partecipare e ci sono tantissimi corsi dove io terrò il corso dei sandali postiano mazzo il maestro che fa il maestro ecco il corriere aspetta apri ragazzo mamma e quindi nulla si possono fare chi vuole imparare può andare in in bottega se ti prendono perché sicuramente non è facile perché comunque il calzolai è una brutta razza e poi dopo piano piano uno vede quello che piace di più quello che piace di meno e comincia a lavorare non è facile sono sincero non è facile però stiamo cercando di capire se diciamo a creare una scuola con dei corsi corsi così dopo uno col tempo si può avere la propria bottega sicuramente sono sincero almeno uno fa qualcosa poi quanto sarebbe già fatto no ecco c'è chi dice Ivana Pescara Centro no no Ivana avevo il negozio e un posto diciamo stava dove Pescara Centro un centro c'era ma non era vabbè ma Giallop produce scarpe interamente a mano no anche lì scarpe molto costose ma non vengono fatte a mano cioè il fatto a mano oramai non conviene costa troppo perché costa tanto la mano d'opera e in poche parole uno dovrebbe pagare una Giallop fatta a mano la dovreste pagare non lo so 3.000 euro cioè lì sporiamo completamente anche per Giallop un po' troppo però sono scarpe cioè il fatto a mano va benissimo è bello tutto ma non vuol dire che se si usa una macchina cioè la macchina non sbaglia l'uomo sbaglia se la macchina sbaglia è perché l'uomo che la usa è quello che sbaglia non è la macchina non è la macchina se capito su un drecci però anche le scarpe fatte con macchinari nulla da invidare le scarpe fatte a mano sicuramente fatte a mano con la storia dietro cioè si può scegliere tutto cioè è una roba bella sì vabbè allora purtroppo di dove sei dimmi di dove sei così ti dico se c'è qualche calzolaio in zona che è il ragazzo che mi chiede perché lui è andato al calzolai nel suo paesello e gli ha detto gli ha dato picche ha detto non ti insegno nullo ragazzi purtroppo i calzolai sono abituati a lavorare da soli sono chiusi ma spesso lavorano tanto lavorano tanto e non hanno tempo di insegnare e poi ripeto l'Italia non è un paese che mette in facilità questa cosa purtroppo perché poi subentrano tutte regole cose tenere una persona non è facile cioè non è che quello però se mi dici dove sei ti dico Francavilla Insigni provincia di Potenza Potenza guarda non lo so Potenza e boh non conosco nessuno di Potenza allora qui Emanuele mi chiede mi fanno rumore mentre cammino le McQueen si sarà scollata la suola sì sicuro te lo dico non è che si è scollata le scappe cosa succede se si scollano al centro ogni volta che camminate fa gni 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 capito fa sto cosino che purtroppo non si può cioè è molto difficile sistemare va scollata e rincollata nuovamente la scappa è l'unica soluzione quindi si può riparare ciao ho sistemato i miei lobuten te li ha portati mia figlia sono venute benissimo saluti da te grazie finalmente qualcuno fa i complimenti che non ci insultano perché molti ci insultano no scherzo mi fa molto piacere Prospero Oliveto dice avremo un franchising stiamo calmi non ci allarghiamo perché qua è veramente dura già facciamo fatica così piano piano si può fare qualcosa però se ci vuoi dare i moni noi facciamo tutto c'è no fatti scherzi ciao quanto posso un'incitatura Timberland per le condizioni pietose ma che macchie bianche umido cantina da vedere non lo so sono sincero non lo so devo vedere la scappa come ho detto prima ci mandi le foto c'è il link sulla pagina profilo e ti dico un attimo che cosa si può fare salvo vorrei sapere se cercate aiutante ammazzo voi state tutti quanti mandaci una mail mandaci una mail a proposito lo dico ci stanno guardando 18 persone e 37 persone in più qualcos'altro allora cerchiamo una persona che vuole stare al banco cioè che sta qui che parla col cliente che vende le scarpe che prende gli ordini che spedisce che fa quindi deve essere una persona che sa stare in pubblico con un sorriso i rospi no no a parte scherzi cioè comunque che vuole darsi da fare cioè non è che sta là così sorridenti belli scherzosi abbattuta non troppo però via di mezzo comunque una persona che ha voglia di mettersi in gioco e poi piano piano anche qualche lavorettino lucidature queste cose però soprattutto ci è stata una persona che sta con front office cioè col cliente e si occupa di rispondere ai messaggi perché ne sono tantissimi tra i vari social youtube e robe varie youtube whatsapp e robe varie quindi viene fatto un affiancamento naturalmente però una persona che c'ha voglia quindi se avete qualcuno fate quello sapere la mail ah c'è la mail maestricircone appunto info chiocciola maestricircone.com oppure ci scrivete su whatsapp su instagram ci scrivete ci mandate il curry home in formale europeo no scherzo basta che è così ci possiamo risentire c'ho una borsa Louis Vuitton che si è rotta sul fianco si può riparare allora ragazzi su Louis Vuitton facciamo tutto tipo ad esempio pauletto speedy abbiamo cambiato tutto vedete il profilo manici attacco dei manici abbiamo rifatto anche linguette insomma sulle Vuitton oramai sono super fornite cioè veramente facciamo di tutto quindi nessun problema dopodiché 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 basta allora sono tre settimane aspettando ma sono pronto o no samuele non lo so noi di solito abbiamo tre barra quattro settimane quindi roba che sono pronto altra borsa che dobbiamo riparare sempre tutte le parti in bacchetta qua cambiamo tutto segniamoci veramente il ragazzo samuele il cognome? eh non lo so ci chiedono posso portarti delle camper a cui va cambiata la suola le camper è veramente difficile sicuramente dobbiamo dobbiamo capire che è solo a metterci perché è veramente veramente difficile purtroppo i fondi non sono mai simili perché la camper fa delle cose strane però qualcosa possiamo adattare siamo a Milano se non puoi venire ci mandi delle foto e noi vediamo cosa possiamo fare eh samuele Colucci due paesi di McQueen guarda le McQueen ce l'ho sotto le stiamo facendo tutte quante strano che noi che l'abbiamo spedita oggi quindi non è tre settimane eh samuele mi sa che hai sbagliato con le tempissiche non è tre settimane ma ce le hai spedite sono arrivate il 5 maggio quindi no le stiamo facendo le stiamo facendo comunque quindi non ti preoccupare penso che già questo questo fine settimana riusciamo riusciamo a mandarle poi basta allora io direi che basta ci andiamo a prendere un caffettino e riniziamo a lavorare e niente ciao a tutti buona giornata e buon lavoro chi lavora o buon riposo chi si sta a casa o buon riposo o buon riposo o buon riposo o buon riposo